Seneca è un filosofo ma è contemporaneamente uno scrittore straordinario e ciò che colpisce poi molto spesso degli autori latini è la loro capacità di scrittura e questo che poi ha lasciato un enorme segno anche nei secoli successivi perché non solo avevano la ricchezza intellettuale ma sapevano comunicare, sapevano farsi leggere che è una virtù straordinaria. In filosofia Seneca è uno stoico il che vuol dire una persona profondamente convinta dell'unità del cosmo, profondamente convinta dell'esistenza degli dèi, profondamente convinta dell'esistenza della natura, una grande fiducia in ciò che lui chiama la natura e nel fatto che seguire la natura significa inevitabilmente fare il bene. Contrariare la natura significa fare il male. Esprime tutto ciò, questo suo pensiero che in vero è assai più complesso di così, lo esprime attraverso alcuni trattati che sono poi rimasti celebri come il Deira per esempio e soprattutto attraverso una singolare raccolta di lettere rivolta a un personaggio che si chiama Lucilio, di cui sappiamo pochissimo, un giovane amico, un discepolo, chissà. Ci sono solo le lettere di Seneca a Lucilio, non ci sono quelle di Lucilio a Seneca e in queste lettere lui a Lucilio rivolge spiegazioni, ammaestramenti, a volte gli dedica persino dei piccoli trattati, spesso in alcuni casi anche teorici, anche complessi dal punto di vista filosofico, ma più spesso affrontando temi che si potrebbe piuttosto chiamare esistenziali. Seneca è un grande filosofo dell'esistenza, quello che lo interessa è come affrontare la vita, come affrontare il male, come affrontare il bene, come far fronte alla paura della morte, come accettare l'idea del trascorrere del tempo e del tempo che è così breve nella vita umana. Questo è ciò che lo interessa e a queste domande lui risponde attraverso soprattutto la letteratura, secondo me, cioè lo stile. Riesce a formulare talmente bene queste risposte che per un po' uno resta convinto che Seneca davvero abbia capito come si risolve il problema dell'esistenza e può darsi che in alcuni casi sia veramente così. Al di là delle lettere a Lucili, un trattatello soprattutto si distingue, e questo sarebbe bene oltre che ricordarlo, leggerlo, trattatello dedicato alla brevità della vita. Perché? Perché lui affronta uno dei grandi temi che affliggono la contemporaneità, il troppo lavoro, il sentirsi occupati, come dice lui, cioè non avere mai un momento libero e soprattutto non riuscire mai a districarsi da questa continua moltiplicazione di impegni in cui tutti siamo stritolati. Lui qui spiega qual è la differenza tra un uomo libero e un uomo occupatus, che per lui è proprio la specie, diciamo, peggiore di uomo possibile, perché è il più infelice. Scrisse anche tragedie, tragedie che si leggono con fascino e insieme con orrore, perché il mondo che lui dipinge nelle tragedie è un mondo macabro, un mondo soprattutto pieno di ingiustizia, pieno di malvagità, pieno di sofferenza. C'è uno stacco però in tutta questa quadro, diciamo, tra il filosofico, il drammatico, il tragico, l'esistenziale di Seneca, uno stacco che è in una piccola opera che è dedicata all'imperatore Claudio. Quando morì l'imperatore Claudio, che lui detestava, Seneca gli dedicò all'orazione funebre, che fu letta da Nerone con grande successo, contemporaneamente compose una derisione dell'imperatore Claudio, quella che porta il nome di Apocolo Quintosis, in cui descrive il momento in cui Claudio va fra gli dèi, perché è un imperatore, deve essere divinizzato, ma in realtà non lo vuole nessuno, perché è talmente stupido, talmente balbuziente, talmente zoppo, talmente cattivo, che alla fine gli dèi dicono, no, ma questo merita di andare all'inferno. E allora Mercurio lo prende, se lo trascina gli inferi e lungo la strada Claudio vede un funerale e dice, ma di chi è qui il funerale? Dice, ma come? Il funerale è tuo, è di Claudio. Ah, vuoi vedere che sono morto.